ciao a tutti qui francesco al camp master k88 vi racconto il secondo posto che ho fatto al torneo di questa settimana ho portato un evidiro ho fatto tre vittorie una sconfitta l'unica sconfitta l'ho avuta contro roberto breotix che comunque con lo stesso mazzo è riuscito a vincere tra il mio suo cambiano giusto tre carte non di più lì comunque nei mirror è una questione di fortuna perché al dato vinto io andando secondo ho chiuso avendo perso lui andato primo secondo lui e ha chiuso poi lì il terzo game è stato strano e alla fine ho fatto anche una giocata sbagliata per cui è stato giusto che abbia perso così ho perso un'occasione interessante con una carta di side che poi andremo a vedere vi mostro intanto il mazzo come skill giochiamo dark unity molto forte con questo mazzo perché pagando 2000 possiamo cambiare tipo di un mostro evocato specialmente del nostro avversario in roccia e ciò ci serve per sinergizzare con le fusioni soprattutto con dark gaia perché permette anche di usare super poli per evocare i mostri che possono essere evocati tramite fusione oscura e in più cosa importante scartando una carta ci permette di cercare dal deck e aggiungerla in mano fusione oscura quindi comunque molto buona come carta come comparto mostri abbiamo doppio clayman e doppio spartman scusatemi e doppio clayman semplicemente perché il mazzo si basa su l'evocazione di lightning golem e i due materiali per evocarlo sono questi quindi ne giochiamo due e due un altro eroe malvagio è malicious edge perché c'è la possibilità di fare la fusione grossa con un demone di livello 6 è malicious edge è un 3500 molto forte che fa sì che tutti gli mostri dell'avversario debbano attaccare lui e se l'avversario va in battle face quindi comunque monocopia mi sembra una carta buona se la si vede bene se no si gioca anche senza e doppio versago doppio versago perché ci permette di sostituire uno qualsiasi dei materiali dei nostri mostri da fusione per poter performare la nostra fusione oscura la cosa interessante tra versago e malicious è che per fare malicious fiend si può usare lui come demone di livello 6 e lui prende il nome di malicious edge quindi comunque riusciremo a performare la fusione a prescindere per finire il comparto mostri giochiamo triple breaker perché semplicemente ci fanno paura le carte che possano essere settate dell'avversario siano esse un muro di disturbo libro della luna o comunque qualcosa che possa spezzare la nostra combo noi evocando breaker breaker si piglia tutto quello che dovrebbe potersi prendere il nostro thunder golem la nostra fusione di turno e rimuoviamo una carta sul terreno per le magie abbiamo un mono dark fusion mono perché la aggiungiamo di skill quando serve non la vogliamo vedere in mano assolutamente anche se mi è successo di vederla più spesso di quel che volessi tripla copia di richiamo scuro dark calling molto forte perché tra l'altro tripla copia perché lei contrariamente a dark fusion vogliamo vederla in mano se li abbiamo entrambe abbiamo una mano di otk con doppi mostri poi giocando quattro guerrieri che ci servono per completare le fusioni doppio rinforzi delle armi ci permette di aggiungere loro quattro in più se dovessimo averne una che non ci serve la scartiamo per attivare la skill e va bene così per finire comparto magie doppio raggio notturno che insieme a breaker fanno da back row removal e doppia fusione futura doppia fusione futura perché non ci interessa risolverla di per sé nel che nell'extra teniamo thunder giant perché la carta che possiamo fare tramite fusione futura non possiamo usare versago per futura quindi noi teniamo questa per poter mandare loro due al cimitero e poi avere i materiali per dark calling quindi se l'avversario ce la spacca o non evochiamo lui va bene comunque ci fa comodo avere roba al cimitero tutto qua dopodiché tripla copia di golem perché è il mostro forte del mazzo 24 spacca uno e può attaccare mono copia di gaia e mono copia di malicious fend per gaia non giochiamo mostri roccia però abbiamo un asso nella manica che è nella side nella side infatti ci mettiamo doppia copia di super poli perché così evocando lui sul terreno o avendo uno qualsiasi degli altri mostri che sono demoni e il tuo avversario ha un mostro sul terreno tu di dark unity lo fai diventare roccia con super poli lo fondi e ti fai evil gaia poi non ho copia di doppio ciclone perché ho pensato di beccare diversi deck che possono settare tante back row e quindi è fattibile ipotizzabile pensare di attivare richiamo scuro in catena dal calling targettare due e far fuori delle magie prima che ne entrano laddove breaker e night beam non bastino doppia copia di anti magic error qualora dovessimo andare primi post side magari cioè secondo i post side vediamo che l'avversario ha molte trappole ci permette di parare durante gli attacchi e mono sigillo della magia proibita fondamentalmente questa l'ho messa perché è buona sia nei mirror sia contro my precious queen gli vai a togliere token sunday e poi riesce a chiuderlo con fiendog dark guy e insomma riesce a farlo nella la giocata che potevo fare quella contro roberto lui sul terreno aveva versago e malicious potevo fare super poli per evocare il mio malicious tuttavia comunque lui per quanto abbia sbagliato la giocata lui era messo molto bene e avrebbe vinto anche se avessi fatto questa giocata e per oggi è tutto grazie per averci seguito ci vediamo la settimana prossima